Si riparte da Castelli Sangro per la seconda parte del ritiro precampionato 2024-2025 della SSC Napoli. La squadra è attesa intorno alle ore 14 qui nell'Alto Sangro, pronta per il primo allenamento intorno alle ore 18 al Patini. Sono previsti tanti, tantissimi difosi in questi 15 giorni di allenamenti e di amichevoli. Il clima è frizzante, c'è tanta attesa per i ragazzi di Conte, pronti a cominciare una nuova stagione. Da Castelli Sangro è tutto, Adriano Pastore.